Un fenomeno in continua scesa e che assume dimensioni sempre più preoccupanti. L'utilizzo di sostanze stupefacenti, spiegano dalla prefettura di Barletta, sta diventando una pericolosa muda anche tra i più giovani e i numeri in possesso delle forze dell'ordine sembrano confermarlo. Nel solo 2018 sono state 1146 le segnalazioni pervenute dagli organi di polizia per detenzione di droga per uso personale nel territorio della sesta provincia, con una netta prevalenza della fascia di età compresa tra i 20 e i 24 anni, ma ci sono anche 66 casi riguardanti persone minorenni, di cui 8 sotto i 14 anni. Il 90% di queste segnalazioni inoltre riguarda l'utilizzo di cannabinoidi, mentre il restante 10% si riferisce all'uso di cocaina. Numeri che hanno spinto la prefettura e la ASLBAT a firmare questa mattina un protocollo di intesa con cui si cercherà di favorire una presa in carico più immediata degli assunturi di droga da parte di equip professionali specializzate, ma anche di accrescere nei giovani la consapevolezza dei rischi e dei danni connessi all'uso delle sostanze stupefacenti. Il nostro obiettivo è di accelerare quanto più possibile i tempi previsti da normative e far lavorare insieme due equip, quali quella della ASL e quella prefettura, che sono in grado di raggiungere sicuramente degli ottimi risultati. La prefettura si occuperà di semplificare i procedimenti amministrativi con l'intento di favorire un rapido contatto con le persone segnalate. La ASL invece curerà le fasi di accoglienza e colloquio e si occuperà dell'avvio dei percorsi terapeutici grazie al supporto degli operatori del Servizio per le Dipendenze Patologiche. Ci stiamo prendendo carico di situazioni di ragazzi, di giovani peraltro, anche minorenni, che possono diventare patologicamente importanti e certe volte anche irreversibili. Il nostro obiettivo è quello di prenderci in carico questi pazienti, speriamo che non lo siano e speriamo che non ne siano tanti, ma quando anche ci dovesse essere noi siamo pronti a prestare la nostra piena attività nel principio sempre più volte declamato della piena integrazione tra ospedale e territorio. Tra le novità previste dal protocollo d'Intisa ha anche la creazione di un'equip multidisciplinare. Il progetto avrà oltre la connotazione di anticipare i tempi per un'azione di prevenzione e magari anche di cura, soprattutto avrà una connotazione di ricerca, consentirà la creazione, credo che sia un evento abbastanza raro su tutto il territorio nazionale, la creazione di un'equip mista di operatori ASL e operatori della Prefettura. Per la prima volta lavoriamo insieme con un modus operandi che andrà ad articolarsi poi su progetti operativi che siamo pronti a mettere in atto.